21 e 12 buonasera ben ritrovati avete già visto il sinaco di trieste roberto di piazza buonasera buonasera cari concittadini c'è molta attesa perché è un po' che non ci vediamo per questa chiacchierata stasera un po' di cose che ci racconterà non potete fare alle 8 invece che alle 9 è vero sai più contento anch'io io lo dico molto onestamente sono da stamattina all'alba che sono in piazza unità pensi a mai che vado avanti fino alle 11 dopo? ah tu hai fino alle 11 di consultori ma tanto devo chiedere anche a lei allora ho una lista di cose su cui vorrei che partissimo la prima è ovviamente il papa lei ha già commentato anche il telegiornale però il 7 luglio viene papa francesco sai ho mandato quella foto bellissima che ho quando sono stato in vaticano da lui con una bellissima persona veramente e poi per la mia città per la nostra regione diventa una grande opportunità pensa l'ultimo era nel 92 per cui al 7 luglio sono molto quando mi ha telefonato il vescovo veramente ero molto 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 soddisfatto perché ripeto è una grande promozione per la nostra Trieste poi la santa messa sarà in piazza unità quindi no qualcuno là su cosa la messa a Rocco no dai no su facebook sai quelli che giocano no beh sarà in piazza unità ma sai parlavo in comitato no? in comitato dove c'è il prefetto dove c'è il questore e tutti naturalmente ha detto che quando si muove il papa è più importante come sicurezza del presidente degli Stati Uniti tanto per lì è un bel impegno però è anche una grande promozione per la nostra città siamo sinceri il mondo parlerà di Trieste e questo sicuramente a me non dà fastidio quindi perché lei era stato infatti a Roma no? no io sono stato tante volte con l'Anci mi parco di sindaci tante volte tante volte in Vaticano con tanti papi pensa che ho passato tre vescovi a Trieste questo è il terzo e naturalmente sono stato anche tante volte e difatti sulla mia schivania c'è quella bellissima foto quella che ha pubblicato poi il piccolo oggi va bene prima di andare alla cabino via perché è importante ovviamente lei avrà visto quello che è successo e dopo ne discuteremo dopo di lei faremo un dibattito sul tema dei consultori chiamiamo la riforma insomma un cambiamento previsto da tempo e che ora ha portato in piazza manifestanti insomma critiche questa sera c'era anche il direttore generale Polgiana riascolteremo una parte di quello che ha detto Trieste in diretta anche durante Ring dopo di lei da sindaco di questa città certo è una decisione della regione è ben chiaro io non ho condiviso perfettamente con Polgiana tutto perché? perché abbiamo quattro avevamo quattro consultori che allora entravi dentro non c'era la psicologa perché quel giorno non c'era non c'era il ginecologo eccetera cosa abbiamo deciso di fare? concentriamo su due li apriamo fino alle 18 invece chiudevano mi sembra alle 15 alle 16 li portiamo fino alle 18 è una grande opportunità perché troverai sempre tutto il tutto e avrai un servizio credetemi questa è la realtà ma d'altra parte vogliamo una volta una cosa che non fate non fate comunicazione giusta abbiamo cari con cittadini in Italia 3 mila miliardi di debiti abbiamo 100 miliardi di interesse all'anno lo volete dire questo ai cittadini che sono 8 miliardi e mezzo al mese se li tramontiamo in lire sono 27 mila miliardi di lire al mese di interessi sul debito che paghiamo allora comincieremo a stringere un po' comincieremo a razionalizzare un po' o vogliamo sempre dire bisogna aumentare tutto bisogna aumentare tutto la spesa pubblica ma siamo impazziti ma un conto è razionalizzare cosa lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti un conto è razionalizzare come dice lei giustamente un conto è stringere o tagliare questa operazione dei consultori sarà un ottimo servizio per i cittadini credimi mi gioco qua la partita e dicono Rione che perde il suo consultorio quando tu devi andare in ospedale dove vai? no no rispondimi dove vai? a Catinara se non vai a Catinara vai al Maggiore abbiamo un ospedale dappertutto ormai anche quello perché parliamo sempre di sanità lasciami dire ai miei concittadini la sanità pubblica costa più lavora più costa la sanità privata più lavora più guadagna facciamo così cari concittadini mettiamoli insieme e così risolviamo tutti i problemi ma il sindacato non vuole perché il sindacato lì è forte capisci nella sanità facciamo gli interessi di questo paese cosa intende dire che è una manifestazione di contrarietà di parte organizza cosa vuol dire? ma io guarda non mi interessa quelli che fanno le manifestazioni anche se ho visto delle facce che sono tutte riportabili al centro sinistra scusi però questo è già premio sms in caso di problemi anche il papa sarà spostato a Fontana Fredda no ti ho detto che c'era su Facebook mi hanno mandato oggi la messa sarà fatta a Rocco fantasia non l'ho ricordato 375 6458 500 quindi scriveteci adesso guardiamo anche gli sms ovviamente come sempre oh cabinovia no ho letto Francesco Russo Pietratombale di fatto sulla cabinovia Russo è rimasto a settembre tu sai meglio di me perché credo che te l'avevo detto che ero andato a Roma dal ministro San Giuliano con tutti i dirigenti del ministero eccetera eccetera e avevo chiuso la partita ma non era chiaro quello che lei disse quella sera famoso vado a San Giuliano perché sembrava minaccioso un attimo non era chiaro è chiaro quello che ha scritto Russo oggi? abbiamo capito perché è andato a San Giuliano ecco hai capito e dopo che è andato a San Giuliano qual è l'effetto? che si fa la cabinovia quindi quei documenti sono vecchi hanno stimolato diciamo questo incontro come io glielo chiesto poi il ministro cari concittadini stiamo lavorando c'è chi è contrario chi è favorevole su un progetto del PNRR presentato dal governo italiano a Bruxelles e dove portiamo a casa 62 milioni di euro ripeto perché forse non ci siamo capiti 62 milioni di euro secondo la mia opinione è una grande opportunità per la penetrazione da nord naturalmente pensate a via commerciale pensate a strada dei Friuli e naturalmente sotto il punto di vista turistico a qualcuno va bene a qualcuno non va bene io sto andando avanti e siamo a buon punto quindi quello è un capitolo chiuso passato risolto già nel dialogo tra gli uffici e il ministero ti ho già detto un giorno Russo ce l'ha con me perché probabilmente era sindrome perché l'ho battuto sai lui ha sempre perso ti ho già detto un giorno con Cosolini ha perso con la Sierra Chiani che non l'ha fatto il senatore ha perso con me allora lui tutti tirano fuori questo basta vedere l'altro giorno c'erano gli ordini del giorno lunedì ero alle 7 e mezza ero in piazza scusami il numero regale ero alle 7 e mezza carico cittadini ero in piazza unità alle 19 e 30 di sera ho chiesto ai miei capi gruppo posso andare a casa perché non ne potevo più questi hanno fatto mancare il numero regale sapete sul cosa carico cittadini sugli ordini del giorno del centro-sinistra ma roba da pazzi lì si buttano via i soldi perché quando fai saltare adesso lunedì riportiamo cioè si rifà il consiglio comunale che è saltato per numero legale esatto ma perché è saltato di nuovo danno la colpa a voi perché non avete abbastanza consiglieri presenti ma spieghiamo ai cittadini tu hai 24 consiglieri di maggioranza più il sindaco 25 il sindaco era andato via c'erano 3 malati quel giorno è mancato il numero legale pensa questi hanno chiamato non aspettano altro che fare queste cose ma così si buttano via i soldi pubblici secondo la mia opinione poi su cosa sugli ordini del giorno sai cosa è un ordine del giorno vuoi che ti dico hai capito cosa ho detto poca roba ecco ma non poca roba carta straccia cioè la politica prevede gli ordini del giorno io voglio fare una cosa io voglio fare un'altra cosa ovviamente sono le opposizioni che portano avanti questa roba è democrazia e difatti hanno fatto saltare il numero legale e così sai cosa faccio lunedì li li boccio tutti giusto? cioè tutti gli ordini del giorno che loro comunque ripresenteranno ripresenteranno io li li boccio tutti così imparate a vivere giusto? sì è una questione di educazione ma ho capito sindaco però ragazzi ragazzi cari soldi difatti sono 20 anni che faccio sindaco non ho mai avuto una condanna né tanto meno non ho mai portato un pranzo nel mio comune non ho mai speso un euro del comune di Trieste io sono fatto così e ci tengo a camminare a testa alta nella mia città allora sto dicendo buttare via i soldi così mi dà fastidio cioè mancando il numero legale preferisco mancando alcuni consiglieri della maggioranza preferisco l'opposizione restava in aula e il numero legale c'era per spiegare il numero legale carico cittadini è 21 e allora quel giorno che mancavano erano 20 in aula immediatamente si è alzato la terza ha detto numero legale allora sono usciti tutti loro escano hai capito e fanno mancare il numero legale quando vedono che dalla maggioranza non sono in tanti mamma mia sai è un'azione è un'azione importante è politica anche questa no come dire siete deboli perché manca il numero legale è un'azione importante ma di cosa stiamo parlando quindi non diboccerete tutti gli ordini del giorno dell'opposizione l'ordine è mio bocciarli tutti tutti sarà meglio neanche che li ripresentano che li ripresentano va bene va bene poi scende il numero legale lunedì scende da no dopo in seconda convocazione va a 14 quindi è più basso ma sì ma non è quello il problema ma ripeto comunque devi avere loro sono in 16 comunque devi avere però se hai tre ammalati visto che siamo in gennaio può anche essere che tre abbiano un'influenza non so la vedo così mamma mia vabbè è soprattutto il disastro di questo periodo allora che cosa dunque lunedì comincia il tema cominciano veramente i lavori questa mattina alle 9 ho chiuso dopo 20 sopralluoghi abbiamo chiuso lunedì carico cittadini partono i lavori di un disastro guardate non sono mai stato così male come stamattina a vedere quello praticamente il mare ha portato via tutto sai sotto le panchine certo ha portato via tutto è una roba da paura però lunedì partono i lavori e dopo che Dio ce la mandi buona poi il tempo innanzitutto e spero di consegnare almeno metà dei topolini ai primi di maggio e poi andare avanti con i lavori poi c'è tutta la costa c'è il buco di Miramare c'è il buco della delle Corriere insomma però la regione spero che abbiano fatto oggi il decreto mi ha dato 6 milioni e 2 per cui però c'è tanto da lavorare ma tu non hai idea hai presente i bagni completamente sai dove c'era la rampa per i disabili completamente diverto tutto però per opportuna sai gare contro gare sai come la pubblica amministrazione siamo riusciti che lunedì mattina partono i lavori da dove si comincia dal CEDAS ah ok CEDAS uno e avanti CEDAS poi c'è quel bar lì come si chiama il pane quotidiano il pane quotidiano e dopo partiamo dal primo topolino perché hanno distrutto tutto comunque già che ci siamo aspetta che ti do alcuni dati per i cittadini perché è molto interessante stamattina abbiamo aperto i lavori di una scuola la Caprini 6 milioni di PNR più 4 milioni della regione e allora leggevo così mi sono fatto un po' un resoconto perché abbiamo lavorato tanto nel 23 e abbiamo portato a casa una marea di soldi vi dico quello che stiamo lavorando in questo momento 2 milioni 915 asilo di Riccesi quello tutto in legna San Giovanni 2 milioni 915 ex Charlie scuola dell'infanzia 2 milioni 569 l'asilo nido 2 milioni 784 prendi nota scuola di Via Tigor 8 milioni tanto per tanto per dire 8 milioni sono molti scuola Corsi 1,629 scuola Caprini stamattina 6 milioni 2 più 4 milioni della regione tu pensa che la palestra della Caprini aspetta da oltre 10 anni ho visto ho visto stadio Grezzar 2 milioni pista di illuminazione e fondi regionali palestra di San Giovanni 4 milioni 309 parte adesso ai primi di febbraio cittadella dello sport quella con Summer 4 milioni 706 c'è uno stanziamento dell'amministrazione comunale questi sono importi no gran parte sono tutti i fondi PNRR no quello che volevo dirvi che abbiamo fatto i progetti abbiamo presentato i progetti del PNRR e abbiamo portato a casa una marea una marea di soldi che sono già stati impegnati e sono molto orgoglioso anche stamattina con la Caprini sai 10 milioni sulla Caprini rifai la scuola completamente nuova sono tanti esatto ma le chiedono ovviamente il tram qua ringraziamo anche il mio personale e ovviamente l'assessore Lodi questo ovviamente ce l'abbiamo ce l'ho nell'elenco tra le cose che devo chiedere al Sino e al Carciotti ovviamente lo immaginerete ma le chiedono se il Papa prenderà il tram benedirà il tram ci sarà il tram ma va bene ma abbiamo ormai una storia dell'assurdo ma è giusto che sia così caro cioè uno dice della città racconta queste cose qua insomma no invece per quanto riguarda i Carciotti è arrivata un'offerta delle generali sapete che le generali sono nate i Carciotti ma a me quello che interessa di più sono i 70 milioni che loro vogliono investire adesso parlerò con l'ufficio ho già chiesto l'appuntamento con l'ufficio delle entrate farò vedere l'offerta delle generali che è più bassa ovviamente dei 15 milioni che sai che dopo le 2-3 aste andate a deserto il valore era di 14 milioni e 9 per esattezza adesso vediamo è inutile lasciare lì questo edificio che poi diventa sempre più pericolante eccetera per cui adesso vedremo cosa mi dice l'ufficio delle entrate e dopo sapete bellissimo che devo andare comunque all'asta cioè non è che nella pubblica amministrazione puoi trattare come tratti nel privato bisogna andare all'asta e questo sarà una cosa però è molto interessante che venne il discorso è venuto qua Aldo Mazzocco con l'avvocato e mi hanno portato l'offerta per i carciotti per i carciotti quindi adesso che tempi ci sono? adesso c'è tutto l'iter che devo parlare con l'ufficio delle entrate naturalmente perché ripeto l'offerta è più bassa del valore del 14 milioni e 9 e poi decideremo con gli uffici sempre per fare in maniera molto trasparente ovviamente cosa fare ripeto dietro abbiamo le generali cioè ricordiamoci che sono nate i carciotti 100 erotti quando sono nate sono nate i carciotti per cui ci tengono anche loro a riaverlo e poi cosa fare dei carciotti l'academy naturalmente per quanto riguarda le generali ma poi naturalmente io vedo un albergo vedo ristoranti vedo insomma delle cose molto interessanti qual è uno scritto attenzione che vanno troppo veloci non riusciamo a leggerli dica chiaramente quali sono i problemi per il tram perché non parli ma carico i cittadini ma secondo voi uno come me si fa prendere in giro in questa maniera se potesse risolvere questa roba ho telefonato Salvini ho telefonato a tutti eh Salvini eh ministro di infrastrutture ma non è un attimo un attimo nella pubblica amministrazione non è che perché sei sindaco no ho capito ma è ministro lui adesso hanno nominato la commissione voi sapete che il tram è dentro io ero a Milano la scorsa settimana e correvo con un treno che andava a 284 km all'ora l'alta velocità l'alta velocità il tram di Opicina che va a 5 km all'ora ha le stesse regole è così è così e allora sto dicendo che alla fine però adesso ho parlato con loro abbiamo la commissione adesso la commissione deciderà quando può partire questo tram ma quel famoso passaggio cioè no volevo dire ai cittadini non è che uno come me si fa prendere in giro da un tram in questa maniera vuol dire che proprio le cose sono drammatiche sì però era rispetto all'ultima cosa che lei aveva detto qui a Ringa cioè passeremo stavo valutando di passare a Trieste Trasporti disse qui questa cosa qua no ma dopo è venuta fuori che serviva questa commissione finalmente ho parlato con il dirigente per l'ultimazione dei lavori non è un'ultimazione dei lavori la commissione deve decretare la partenza del tram del tram praticamente la commissione ma non era fatta la commissione neanche allora ho un momento non la commissione qua a Trieste no no la commissione a Svisa a Svisa come si chiama la ditta non vado avanti perché già con te colpa mia è un'altra querela esatto già con te mi sono preso la querela c'era scritto c'è un piano B per l'Unione eccolo qua c'è un piano B per l'Unione insomma è Rocco dai Rocco è Rocco adesso si fa il campo loro stanno andando avanti adesso vogliono fare il campo adesso hanno giocato con il Padova era bello il campo sono andato a vederlo e dopo vogliono giocare via che facciano hanno preso i soldi ringraziamo sempre il presidente Federica che ha messo un milione e tre cinquanta a disposizione hanno i soldi hanno tutto hanno i progetti abbiamo approvato i progetti adesso partiranno i lavori fanno loro perché tramite finanziamento federazione quindi intende dire voi non avete fuci in capitolo federazione italiana gioco calcio e triestina senta e quindi i concerti saranno lì come lei ha detto chiaro e l'Udinese adesso sa quello che è successo con l'Udinese io ho portato la solidarietà alla città di Udine e alla famiglia posso innanzitutto per l'insulto razzista per quello che hanno subito per quello che ha subito quattro cretini che gridavano contro un ragazzo di colore però l'hanno portato a livello internazionale hanno sputanato tutto e tutti ma per l'amor di Dio dico io cioè non serviva fare tutto questo per cosa? per quattro persone che gridavano contro un ragazzo di colore cioè ha esagerato mi sembra un po' esagerato il tutto mi sembra però ripeto ognuno fa le sue cose sono sindaco di Trieste e non di Udine no chiaro però lei ha condannato duramente anche in una dichiarazione che dopo i nostri microfoni i giorni scorsi e il sindaco di Udine vorrebbe dare la cittadinanza onoraria c'è polemica per questo Udine? no? no? non condivide? non vuole? io non darei la cittadinanza onoraria al portiere del Milan al portiere del Milan sinceramente ma però ripeto rimane una mia opinione carico cittadini ognuno io sono milanista tu sei juventino cosa sei tu? no io non ho più non sei niente ma va bene uno è interista ognuno la pensa a modo suo però a questo punto ripeto cittadinanza onoraria direi proprio di no anche perché questo ha sollevato un po' il verone ma ripeto alla fine quanti erano quelli che hanno gridato in quattro? sì uno più altri quattro almeno fino a questo momento 8 su 20.000 perché sono 20.000 allo stadio di Udine 8 su 20.000 e abbiamo fatto tutto sto casino a me sembra un po' esagerato certo però non è una cosa che si può lasciare passare no? assolutamente no però però neanche tramontarli in un dramma perché l'hanno tramontato in un dramma l'udinese calcio la città di Udine e di tutto e di più ripeto per quello che mi riguarda la mia solidarietà alla famiglia Pozzo che conosco che sono stati dei grandi che hanno investito a Udine e hanno trionfatto per tanti anni in serie A va bene qui le chiedono della fiera ma tanto la fiera lei mi risponderà come le altre volte perché è un privato questo privato non c'è signori miei immaginavo no la fiera allora questa gentaglia qua è fuori con 17 milioni 17 milioni se li tramitiamo sono circa 33 miliardi e mezzo di lire questi sono fuori con 33 miliardi e mezzo di lire prima o dopo dovranno partire no? sì non dica gentaglia perché sennò dopo sembra no no gente questi investimenti no ma no secondo me sono arrivati qua mi hanno chiamato per dirmi che partono i lavori ehi sono partiti i lavori no e allora senta prima di andare a Portovecchio posso essere anche un po' arrabbiato arrabbiato sì allora prima di Portovecchio di nuovo zona 30 io glielo chiesi credo almeno un anno fa ora visto tutto questo grande dibattito mentre la regione adesso sapete che acquista via Rossetti no? ah sì sì l'abbiamo già detto la caserma che sarà molto importante allora prima la zona 30 lì dicono ma la viabilità come si farà un domani le dice l'opposizione se tutte le scuole vanno lì come si fa poi con la viabilità ma sì ma chi serve ma queste sono cose va bene sai le opposizioni su qualsiasi cosa ci sono i tecnici l'urbanistica la viabilità dicono sempre contro quando ho fatto le rive mi ricordo che c'era uno che diceva che faceva un'autostrada sulle rive ho fatto un'autostrada sulle rive o ho cambiato la viabilità della città secondo la mia opinione sono diventate bellissime le rive con le due corsie l'onda verde eccetera però su ogni cosa si può dire zona 30 io ho messo la zona 30 padriciano trebiciano perché c'è una strada unica uno arriva a 100 all'ora attraverso un centro abitato e allora a questo punto magari ti uccide qualcuno allora va bene la zona 30 oggi ho provato con l'autista ho detto si metta 30 all'ora per provare in città da impazzire ma già 40-50 sei in difficoltà 40-50 a 30 all'ora vuol dire massacrare la città è che dai dati pubblicati sui giornali nei giorni scorsi c'era Trieste anche la media in realtà è attorno ai 38 km la media di ore di punta non sono 30 certo come dire non è che si vara realmente più veloce no ma sto dicendo ma 30 però sindaco il 30 è perché salva le persone se c'è un investimento a differenza dei 50 all'ora seguimi io ero a Bologna e quindi il traffico è andato a 30 no no dico io ero a Bologna il traffico di Bologna è una roba spaventosa costi tram dappertutto Padova tu mi sembra che conosci Padova com'è la situazione a Padova con il tram allora devi uscire un'ora e mezza prima no le ore di punta la tangenziale le ore di punta è ferma ecco allora sto dicendo è un sogno qua Milano Milano da paura e parliamo della zona 30 però ripeto ognuno governa le proprie città senz'altro ma non è una questione di traffico scorrevole ho messo la zona 30 a Trebicciano ho messo la zona 30 a Basovizza perché ripeto quelli che arrivano con una strada unica magari ti fanno un incidente in città però la vedo dura a 30 all'ora lei dica corrono magari poi arrivano nella strettoia che è paese che è città con case e quindi bisogna che rallentino questa è la mia opinione ma il tema di fondo è non per il traffico o via dicendo anche se poi la differenza reale nella media non è tanta è perché se investi una persona a 30 all'ora quella si salva no un attimo a 50 secondi dati avarino se tu cadi con la testa anche a 20 all'ora sei morto non diciamo delle cose che a 30 all'ora ti salvi se sbatti probabilmente sul parabrezza a 30 all'ora è diverso che a 50 comunque sto dicendo ogni sindaco io sinceramente la zona 30 nella mia città non la metterò l'ho messa come ho detto prima in alcune località periferiche perché le reputavo giusto che commissione c'è stata oggi sui migranti che cosa si è deciso no oggi c'era Schiavone e compagni abbiamo parlato della situazione dei migranti perché volevano che io aprissi ai migranti il sottopasso di Piazza Libertà e io ho detto di no non era una cosa che hai presente il sottopasso di Piazza Libertà ma non era una cosa che aveva detto anche lei stesso che voleva io no anzi lei li chiuderebbe ma no li ho chiusi perché lo usavano come WC e rimangono chiusi e non le hanno chiesto loro volevano aprirle per mettere i migranti io cari concittadini sono andato a Bologna centinaia di migranti che dormono con i materassi sapete che Bologna è piena di portici sono andato a Torino voi non avete idea cosa c'è a Torino di migranti con i materassi che dormono dappertutto è inutile che vi parlo di Milano piuttosto che di Firenze e a questo punto basta ho detto di no non apro il sottopasso di Piazza Libertà per mettere i migranti né individuare una struttura dove ospitarli io ho sempre la mia opinione abbiamo 160 caserme vuote in Friuli la Venezia Giulia è troppo piccola per fare un hub la Venezia Giulia cioè la nostra città perché la Venezia Giulia poi alla fine è la nostra città è troppo piccola per poter creare un centro tipo Lampedusa per capirci abbiamo 160 caserme vuote ne prendi due le metti in regola le dai da mangiare gli dai l'assistenza sanitaria i documenti e passi lunghi e ben distesi mille volte i tifosi gridano insulti solo per innervosire l'avversario non per razzismo bravo ho capito bravo concordo ma ho capito ma non si deve fare ma qualche volta io quando andavo a vedere il basket mi agitavo anch'io no c'è una foto diciamo sua epica sì ma sì ma perché fa parte così c'è il giocatore che ti stuzzica le mancavano quattro dita diciamo allora volevo dirti è normale che ci sia un po' di entusiasmo ma poi che si canta non possiamo ridurre entusiasmo ovviamente questa cosa vergognosa no però però neanche e non dovrebbe neanche essere ormai la normalità che si debba insultare qualcuno dai però anche quello che hanno fatto della città di Udine e dell'Udinese e della cosa secondo me è esagerato tutto là è tutto esagerato sì no ma ho inteso la sua opinione europee non è che si candida all'europea è vero ma per l'amor di Dio dicevo oggi oggi avevo un ambasciatore statunitense americano e allora mi ha detto ma lei dopo cosa farà va a fare parlamentare ho detto non potrei mai perché stamattina guardavo sai quei telegiornali veloci no c'era la slei quella contro Conte contro tutte le dichiarazioni sì che si dicono di tutto di più il remida ma è un po' come lei russo domani sera c'è russo ma di fatti ho detto io la melonia slei e Conte io russo e la terza insomma ognuno ha le sue disgrazie insomma no bella senta sindaco che cosa questo è un messaggio positivo quindi non lo non lo leggo siccome le dicono poi che non passano i messaggi a ringa sa quante ne arrivano dopo le faccio vedere dopo attenta analisi di piazza risulta uno tra i migliori sindaci di Trieste grazie va bene senta Porto Vecchio se no altro una cosa faccio lavoro tantissimo perché da stamattina sono in giro e sono ancora in giro ma anche abbastanza bene che cosa che cosa che novità ci sono per Porto Vecchio quindi quando si fa Porto Vecchio abbiamo incominciato ah bella questa dopo lo svincolo del vincolo perché quella del vincolo è passato oggi l'abbattimento è incominciato l'abbattimento in queste ore credo un giorno o due di quella baracca perché era una baracca e dopo apro eh perché avevo detto che a gennaio si apriva carico cittadini ve lo dico adesso quando arriverete lì rimarrete a bocca aperta perché è una cosa fantastica alla sera poi con 68 fanali sarà una cosa fantastica e quindi quando apre la strada ho detto ho buttato giù la baracca uno o due giorni ci vorrà tre giorni sai dipende anche dal tempo adesso domani domani credo che sarà mezza rasata il suolo dopo facciamo insomma abbiamo messo i basegni è venuto molto bene sai abbiamo messo abbiamo messo carico cittadini quasi mille piante ehi piantine è venuta fuori una cosa molto simpatica sarà bello andare a correre poi poi la gente interrerà finalmente di nuovo in portovecchio è una cosa fantastica questo supermercato dopo lo diciamo ma il tema è il famoso sviluppo il progetto barcola chi se ne occuperà la gara eh sì barcola portovecchio cosa sono molto ottimista sono particolarmente quanto ottimista è carico cittadini sono il 99,9% 99% ottimista che ormai stiamo chiudendo ma è ottimista gennaio o febbraio ma no sai cos'è la vostra domanda è sempre la stessa e beh ogni volta l'importante carico cittadini è partire che dopo ci mettiamo tutte le polemiche vendersi in galleria dopo quando fai la galleria ti rendi conto beata l'ora che dopo 90 anni qualcuno ha fatto la galleria insomma allora l'importante è partire per quanto riguarda il portovecchio grazie anche l'amico Everest e grazie naturalmente al presidente Federica siamo in una posizione veramente straordinaria eccolo qua 9 pedoni su 10 investiti a 30 km si salvano sono 7 a 40 km meno di 2 a 50 queste statistiche non valgono niente no e sono queste le statistiche vi spiego carico cittadini uno cade con la testa anche giù dal marciapiede e muore cioè capisci sono tutte cose che non c'è la signora che è morta sai quella in via Diaz è uscita dalla macchina non ha tirato il freno a mano la porta si è chiusa ed è morta ho capito ma questa è un'altra cosa diversa purtroppo ma queste statistiche sono quelle statistiche inventate ho letto l'altro giorno che nel 2050 moriremo in 15 150 milioni 100 200 300 cioè nel 2050 quando diciamo delle cose cosa vuol dire che previsione possiamo fare se ti dico 15 milioni o ti dico 30 o ti dico 45 cosa hai capito cosa hai capito cioè moriremo vabbè non lo so questa statistica cos'è questi però sono i numeri che circolano in base ai dati scientifici e io sono a 30 non la faccio l'ho fatto e ti ho già detto dove quindi Portovecchio resta positivo a 99,9 su questo sviluppo esatto siamo molto bene naturalmente naturalmente hai partito già i 4 magazzini allora tanto per spiegare ai cittadini i due vialoni sono stati appaltati i due viali appaltati sono partiti i lavori la regione è partita con i 4 magazzini che diventerà qualcosa di straordinario il passaggio dalla città al Portovecchio dei magazzini le panchine le hanno chiesto per i diversamente giovani in Portovecchio saranno le panchine e beh era come quello che ha detto hai tolto le panchine dopo che ne ho messo 80 sulle rive adesso mi hanno detto sono troppe adesso vabbè non va mai bene è arrivato Vitea Giallus e mi ha detto come faremo la barcolana troppe panchine invece di attraccarle le possono senere le barche ma comunque diciamo che cosa ci sono panchine in Portovecchio sì ci saranno è certo che ci saranno dappertutto solo che invece che adesso cerchiamo invece che mettere le panchine quelle in legno o in ferro cerchiamo di mettere quelle in pietra in pietra che risultano per i prossimi mille anni stanno lì ma curiosità a parte che ho dimenticato prima ma perché è importante anche per interesse personale si rifanno le aree gioco a Barcola anche perché sono tutte distrutte sa che quello già fatto e ringraziamo sempre lei l'ha finanziato no ringraziamo sempre la fondazione CRT ringraziamo la fondazione Massimo Paniccia perché ha armato ha hai capito perché quello porta ovviamente tante persone a frequentare i bar sono in difficoltà certo i chioschi sono in difficoltà però però vi invito vi invito cittadini prima adesso che cominciano i lavori andate a dare un'occhiata la situazione è drammatica questa mattina guarda io non piango mai ma questa mattina mi veniva quasi da piangere eravamo naturalmente con tutti gli uffici con l'assessore e l'odi era una situazione veramente drammatica distrutto tutto ma dovresti vedere ha piegato le ringhiere in acciaio si 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 ha scavato ha scavato sotto in maniera incredibile sono 30 anni dalla discesa in capo di Berlusconi domani sono a Roma sai perché vado a Roma? perché nel 94 carico cittadini ho fatto a Muggia Berlusconi aveva inventato il club io ho fatto il club Muggia 2000 il club come diceva lui giustamente club e io ho fatto il club Muggia 2000 nel 2 dicembre del 96 ero sindaco due anni dopo scherzi a parte in effetti anche a Barcola qua dico un supermercato a Longera a Barcola in effetti chiuso ma da un anno mi pare però quello che c'è il supermercatino che c'era lì l'hanno chiuso lì a Barcola si sente parlare però non ho certezze dove c'era Tlustos là che c'è ci sono agenzie che si muovono ho sentito parlare ripeto non c'è nulla di ufficiale ho sentito parlare anche stamattina mi chiedeva la sanella dei Primoschi di un Eurospar a a a ufficina ma il sottoscritto non sa nulla quello un Eurospar a ufficina ma ripeto il sindaco non sa nulla di questa roba adesso mi informerò domani ho visto la notizia nei giorni scorsi domani chiamerò Cicero per farmi raccontare ma ripeto non so non so neanche di chi la proprietà credo sia di settimo settimo il costruttore credo non so di chi di chi è che hanno comperato lì l'ex l'area l'ex albergo eccetera però ripeto queste cose si ma l'obelisco l'obelisco sì credo che sia l'obelisco credo ripeto stamattina mi ha chiesto la sanella ma avevo letto l'articolo sul giornale di questo Eurospar ma non non so nulla va bene cittadini non mollate non rinunciate a fermare quello che la legge garantisce scrivono gli sms va bene sindaco non mollate lottate per i diritti credo fosse un po' questo il concetto grazie sindaco per essere stato con noi i consultori ricordatevi che fra qualche anno sarete molto soddisfatti di quello che abbiamo deciso guardi che così me li scatena perché adesso c'è un dibattito no no ma è giusto che ci sia un dibattito però intendo dire vi garantisco io che ci sarà un servizio migliore va bene grazie a Roberto Di Piazza sindaco di Trieste pochi istanti appunto di consultori la razza è quella di dare è quella della presa in carico è quella di superare il modello prestazionale e della presa in carico dell'utente presa in carico vuol dire non limitarsi a una risposta singola o magari costringendo l'utente a tornare più volte ad accedere al servizio ma nel momento in cui accede al servizio dare una risposta complessiva e quindi la grossa forza di questo cambiamento è il potenziamento la composizione di equip multiprofessionali multidisciplinari come si dice ormai il paziente non è più visto come paziente con una patologia ma è visto come una persona che va la cui salute va affrontata sotto tutti i punti di vista e con la relazione e le competenze di diverse professionalità questo lo si può fare e questo lo si fa mettendo insieme facendo lavorare insieme i professionisti ci consente questa operazione anche di allungare allargare ampliare la fascia oraria di accesso quindi dalle 8 alle 18 e non dalle 8 alle 16 che poi possono diventare le 15 15 e 30 ci permette di aumentare l'attività domiciliare che è la massima espressione di prossimità perché ci consente di aumentare perché la presenza di un gruppo composito all'interno dei consultori consente operatori di recarsi al domicilio senza avere il timore di lasciare sguarnito il consultorio stesso quando ci sono pochi operatori esce l'ostetica e magari non c'è più l'ostetica nel consultorio arriva o la giovane o la signora o la donna e cerca l'ostetica e non c'è non può essere così aumentiamo gli spazi confermiamo e rafforziamo il principio fondamentale della scelta autonoma e della libertà d'accesso dell'accesso libero i consultori devono consentire a chiunque voglia accedere di accedere liberamente senza prenotazione questo significa che non si sa in anticipo cosa ha bisogno la donna quindi bisogna essere pronti a dare una risposta complessiva l'utenza è stata adeguatamente informata non abbiamo avuto alcun tipo rarissime ma direi assenti rimostranze o lamentele ovviamente un po' di preoccupazione perché dovevano capire come muoversi ma li abbiamo tutti riprenotati e in questo periodo siamo stati raggiunti solo da sei chiamate di utenza che chiedevano informazioni perché non avevano capito quindi con il nostro target che è il nostro vero obiettivo che è il cittadino e l'utente non c'è stato alcun problema i problemi sono sorti da altre parti allora così il direttore generale Lasugi Porgiana questa sera la Trieste in diretta l'avevo detto una parte l'abbiamo sentita appunto intervistata da Umberto Bosazzi su questi passaggi tra poco rivedremo anche le proteste quello che è successo in questi giorni saluto e ringrazio Esther Pacor coordinatrice di espansioni Adriana Causi giusto l'accento del comitato di partecipazione per i consultori perché restino aperti quei due consultori appunto chiusi e saluto e ringrazio l'assessore Massimo Tognoli l'assessore al sociale che ringrazio sentitamente anche perché ha scelto ha accettato di esserci lo dico subito perché è una decisione della regione e quindi comunque calata però avete ascoltato poco fa credo il sindaco nella lunga intervista detto all'inizio e ribadito alla fine condivido appieno la decisione vedrete che poi ci sarà un bilancio sarà favorevole nel tempo bisogna razionalizzare un po' tutte queste cose qua cosa dice? risposta al sindaco? allora risposta al sindaco cioè non è una razionalizzazione ma è una un dimezzamento di servizi il già quattro servizi erano pochi per la città di Trieste oggi come oggi la proposta di Asugi è tutta concentrata sugli estremi periferici della città il centro città perciò rimane completamente sguarnito le leggi che regolamentano questi servizi sono chiarissime si parla di un servizio ogni 20.000 abitanti perciò sono servizi sicuramente sovradistrettuali servizi di libero accesso per legge e gratuiti cosa significa di libero accesso cioè le persone possono accedere senza la mitica prescrizione del medico di base e la gratuità è sempre data per legge questo viene confermato cioè libero accesso orari più ampi e più presenze di professionisti questo viene risposto no? allora sempre i consultori come si diceva sono normati da una legge precisissima cioè ogni consultorio al proprio interno deve avere uno un ginecologo uno un pediatra e c'erano? c'erano? allora se non c'erano adesso negli ultimi mesi sicuramente non è per colpa degli operatori ma è per colpa dell'azienda pianificazione diciamo l'organizzazione sì che non ha sostituito i pensionamenti che ci sono stati in questi ultimi mesi quindi in realtà è una decisione indotta in qualche maniera una decisione che è stata indotta dall'assenza dei professionisti che non sono stati sostituiti questo dice lei io dico questo per contro sa che i medici mancano da tutte le parti i medici mancano da tutte le parti però il in questi mesi noi abbiamo incontrato la prima volta il direttore il dottor Paggiana alla prima richiesta di coprire i posti vacanti la risposta dell'azienda è stata non mancano figure professionali ecco e allora ho dell'una l'altra Pacor poi andiamo a pubblicità e sentiamo l'assessore sì io non so cosa abbia detto oggi Paggiana magari lo sentiremo da un po' beh ha letto anche l'intervista credo al piccolo con le risposte sì però lo ha detto a un giornalista e ha detto a una televisione non ha detto alle donne e a chi frequenta come utente il servizio non è tanto meno alle associazioni femminili alle organizzazioni sindacali eccetera Paggiana è il direttore di una struttura pubblica che deve rispettare come tutti gli altri una legge che è una legge nazionale del 75 la 405 è la legge regionale che specifica la nostra regione conquistata con tre anni di battaglia in consiglio comunale qui scrivono i consultori chiusi erano perfettamente in grado di soddisfare tutte le esigenze delle donne soprattutto sarebbero di prossimità chi non lo capisce non conosce i bisogni delle donne mi fai finire un secondo se Paggiana rileva che tutto funziona perché non ce l'ha detto agli incontri con il comitato di gestione dei consultori è scappato perché non abbiamo avuto un documento su cui discutere con le rappresentanze sindacali per esempio che sono poi quelli che si sono trovati l'altro giorno e che hanno rilevato una serie di problemi all'interno del servizio non soltanto nel numero di persone che ci lavorano ma addirittura sulle tipologie di attività che devono essere fatte nei consultori poi c'è un altro problema dove si mettono queste strutture? 100-150 persone sono protesta a credere a queste cose ci si prende in giro protesta è stata quella per Varsila per D'Agostino eccetera come dire numericamente la protesta comincia dopo continua per fare un consultore ci abbiamo messo tre anni dal 75 al 78 per ottenere la rete sull'aborto abbiamo passato di referendum altrettanto sul divorzio per cui le lotte camminano le idee camminano spesso c'è più gente in piazza quando muore una donna e non un'altra per esempio sono casistiche sono casualità che succedono faccio riferimento all'ultima morte di questo 25 novembre però sono tutte quelle dopo e nessuno ha organizzato nulla neanche le televisioni non sono andate a vedere con costruzione di pensiero diciamo così la situazione di quelle donne anzi se le dimenticate e continuano a esserci le violenze allora i consultori devono rispondere a tutte queste cose prevenzione dell'aborto che è molto sceso grazie all'intelligenza delle donne e delle ragazze che scelgono i metodi antifecondativi quindi pillole la spirale RU486 per riuscire a non fare figli quando non li vogliono giusto? poi ci sono problemi anche adesso c'è un ministro un parlamentare che ha fatto una conferenza alla Camera dei Deputati in cui si dice che l'aborto è un reatto e quindi neanche la donna stuprata non può andare ad abortire perché l'altro giorno la Camera dei Deputati è stato detto al Parlamento non vuol dire che non è una legge in discussione era una discussione sulla nascita la maternità e le famiglie fatta al Parlamento in un luogo dello Stato dove questo viene a dire che una che è stata violentata non può abortire quindi le polemiche si infilano questo volevo dire che abbiamo messo tempo per arrivare ai servizi che funzionavano io ho fatto nascere il mio bambino all'interno di un consultorio perché era nato il consultorio e poi casualmente è nato anche mio figlio ma così tante donne e lì c'era un luogo dove le donne si raccoglievano decidevano c'era il comitato di gestione si andava una volta fermoli ogni due anni al voto fermoli pubblicità e poi voglio sentire l'assessore Tognoli vi faccio vedere anche la protesta l'altro giorno a San Giacomo va bene noi siamo preoccupate e quindi vogliamo un consultorio a dimensione di chi ha bisogno quindi delle nuove generazioni delle ragazze e dei ragazzi del nostro futuro noi come non una di meno cioè come un movimento femminista siamo contro la chiusura dei consultori perché i consultori sono un presidio contro la violenza sulle donne l'annuncio ieri da parte dell'azienda sanitaria della chiusura dei due consultori familiari di San Giacomo e San Giovanni non ferma la protesta anzi la riaccende dopo la manifestazione di ieri nella sede dell'ex OPP in occasione dell'incontro col direttore generale Poggiana oggi una rappresentanza del comitato che si batte contro il taglio dei consultori il collettivo non una di meno è un gruppo di cittadini tra i quali anche alcune neomamme hanno dato vita a un breve presidio davanti alla struttura di via San Marco a San Giacomo l'azienda sanitaria con cui avevamo avuto un'interlocuzione all'inizio dell'estate aveva dichiarato anche sui media che avrebbe dato che il progetto di accorpamento era un progetto e quindi non c'erano ancora contenuti realizzazioni e che avrebbero comunicato tempestivamente le eventuali trasformazioni cosa che non hanno fatto c'è una impermeabilità alle proteste dei cittadini che hanno reso evidente il valore di questi servizi l'importanza della vicinanza incerte anche le tempistiche e le sedi delle attività legate al consultorio come percorsi nascita molto apprezzati dalle famiglie ho seguito il corso preparto e adesso sto facendo il postparto e giovedì c'è arrivato un messaggio della nostra ostetrica dicendo che avrebbe chiuso il consultorio e la prossima settimana mercoledì prossimo non sappiamo ancora dove continueremo il nostro corso postparto che è utilissimo e assolutamente necessario e ritengo che sia anche necessario averlo vicino casa tra due giorni abbiamo la chiusura dei consultori a questo punto noi ci chiediamo questa attività che viene descritta di eccellenza e cui diventeranno gli altri presidi ossia ne rimarranno due su quattro come sarà confidiamo sicuramente nel personale che lavorerà benissimo però sappiamo che l'attività consultoriale è un'attività del territorio allora così appunto alcuni protagonisti di questa protesta cosa dice? anzitutto buonasera direttore buonasera a tutti buonasera alle ospiti anche se ci siamo già salutati prima ma bello farlo bello farlo anche adesso io anzitutto esprimo un grande senso di rispetto rispetto verso le persone che abbiamo sentito parlare ora ovviamente verso di voi verso le idee verso queste perplessità nutrite verso questa fase di cambiamento e di riorganizzazione rispetto che sento sempre verso le idee altrui ma anche soprattutto quando queste idee riguardano un tema così delicato come quello della sanità che è un po' il cuore delle nostre comunità io non ho come dire competenze specifiche il direttore l'ha spiegato molto bene prima che la regia e di assugi però è chiaro che ho voluto essere qui questa sera proprio come segno di rispetto verso un tema che è importante e nel quale credo che ognuno di noi debba dare il suo contributo anche se magari non lo riguarda proprio direttamente e del resto c'è stata una riunione di una prima commissione consigliare il 25 maggio in comune e anche lì ho accettato di essere presente con piacere perché erano rappresentate non solamente le forze politiche ma anche tanti cittadini credo che questi siano momenti importanti per costruire assieme e per scambiarsi delle idee che anche soprattutto quando sono diverse costituiscono una ricchezza quindi la prima parola che mi viene in mente è davvero grande rispetto e anche come dire sforzo per comprendere davvero da chi poi ha grande esperienza parlo dei cittadini ma anche gli addetti lavori quelli che hanno lavorato in questi luoghi e poi direttore consentimi di fare un'altra considerazione più ampia e non riferita ovviamente a questa sera vale davvero in generale perché il merito delle questioni è molto importante però il metodo lo è ancora di più il merito vale una volta il metodo potrebbe valere per sempre allora quello che mi sento di dire è che qui potrei confermare questa mia percezione oppure no che in generale su tutti i temi non solo su questo io credo che le persone non ne possano davvero più delle polemiche io ho questa percezione tra i cittadini e quindi per polemiche intendo i bisticci quelle polemiche che ci portano ad allontanare le soluzioni invece che avvicinarle allora credo che prima dicevo rispetto credo che quando noi affrontiamo temi come questi che sono davvero delicatissimi che riguardano il cuore della nostra delle nostre comunità vista la delicatezza del tema dovremmo affrontare questi temi con tatto con sensibilità con equilibrio questo le rende merito però due volte la prima l'ho detto prima per essere qui diciamo a difendere a presentare comunque una decisione che non è sua ma è della regione però qui loro diranno la decisione è stata presa cioè il dialogante l'incontro però così hanno deciso e così noi subiamo e stanno lottando perché questo che è già successo ormai possa cambiare questo è comprensibile non c'è altro modo se non il dialogo per portare il ruolo dell'ente locale dal più basso al più alto è quello di controllare l'operato anche controllare dare indicazioni fare in modo che poi la gente si accontenta dei servizi che si offrono tutti gli anni di battaglia in consiglio comunale per i servizi li abbiamo poi fatti abbiamo fatto i distretti la domiciliare le altre attività la riforma psichiatrica eccetera è possibile mai che si venga ad apprendere da un programma televisivo o da un giornale e non ci sia l'interlocuzione e lo dico anche al sindaco e alle assessori comunali ma non soltanto come di Trieste anche gli altri comuni ma di tutta la regione addirittura perché Trieste aveva rispetto alle altre realtà una situazione tutto sommato favorevole rispetto alla quantità di consultori distribuito in questa piccola provincia dalle altre parti da Monfalconi in avanti il servizio consultoriale è ancora più ridotto lo è sempre stato nel corso degli anni quindi cosa vuol dire se tu devi applicare una legge hai una responsabilità pubblica cosa fai? vai a verificare perché la cosa non cammina nei servizi e ti dai delle risposte cerchi magari di ottenere più finanziamenti se servono formare operatori specifici sul territorio ma garantire i servizi perché ci può essere il giorno in cui un gruppo di cittadini ti denuncia perché non hai fatto un servizio dico per esempio posso aggiungere anche rispetto al ruolo del comune proprio il suo assessorato è un assessorato che è estremamente coinvolto con il servizio dei consultori infatti è fondamentale la rete che questi servizi sanitari hanno con i vostri servizi sociali altrimenti l'integrazione non ci sarebbe pertanto stupisce che effettivamente dal comune a parte quell'incontro del 25 maggio dove c'eravamo anche noi perciò con piacere noto che anche lei si ricorda quella data oggi siamo in febbraio e noi da allora ad oggi abbiamo cercato di parlare con tutti per evitare quello che poi è accaduto dall'altro ieri però sì l'incontro era del 25 maggio in prima commissione devo dire che da quei momenti in poi i miei uffici tecnici ovviamente hanno interlocuito più volte chiaramente cercando di comprendere anzitutto le logiche di questi passaggi che sono anche abbastanza complessi ecco posso dirvi un po' quella che è la sensazione che io raccolgo anche dai colleghi però un po' fuori tempo massimo mi scusi assessore perché in tutti questi mesi cioè nessuno della comune ha più parlato con noi del comitato o con i rappresentanti sindacali o con gli operatori dei consultori cioè silenzio commissione pari opportunità sì silenzio tombale allora gli uffici tecnici dell'assessorato dei servizi sociali hanno parlato con la SUGI perché quella era la fonte e da lì bisognava prendere anche quelle che erano le novità come vi dicevo novità che vengono lette direi con una sorta di sospensione del giudizio anzitutto diciamo che tutte le fasi di cambiamento sono complesse questa è normale però non si può non cambiare nel tentativo di cambiare nel senso migliore del termine e quindi di evolvere perché dico una sospensione del giudizio perché bisogna capire effettivamente quelli che saranno i servizi che verranno erogati il tema della prossimità è un tema importante ma così e nel suo tempo non c'è servizio magari io apprezzo parlare una alla volta perché lo dico perché ascolto attentamente quando gli altri parlano per cui il tema della prossimità è importante però ci sono varie prossimità c'è la prossimità fisica e la prossimità relazionale per esempio io che apprendo anche in questa fase dall'eccellenza dei servizi sociali di Trieste che sapete vantano una tradizione davvero meravigliosa ecco loro ricordano che alcuni anni or sono cinque o sei anni fa ci fu non dico una cosa simile ma insomma un po' analoga vissuta dalla galassia dei servizi sociali che passò da quattro unità territoriali a due adesso infatti sono due una si trova in via Locchi l'altra si trova a Roiano prima erano quattro anche in quel caso mi raccontano io non c'era ma mi raccontano che ci fu un po' di perplessità dopodiché questa cosa invece non ebbe delle ricadute negative è chiaro che si passa la prossimità fisica è importante continua a essere importante però anche quella relazionale è altrettanto importante ricordiamo anche ma lo dico in maniera davvero molto serena che la prossimità fisica ha un valore in certe città più che un'altra traduco Trieste non è New York quindi anche le distanze insomma sono diverse qui sì chiaro qui ci chiede anche poi quella un po' la risposta che viene mossa invece di averlo sotto casa che era un po' la polemica osservazione o la riduzione la riduzione del dibattito torto o ragione intendo dire cioè San Giacomo e San Giovanni chiusi restano perché lo chiedeva anche a qualcuno da casa Valmaura e Roiano giusto? sì due estremi due estremi che vengono ampliati nei loro orari no? solo per rispondere poi all'sms posso? sì per quanto riguarda gli orari i quattro consultori esistenti operavano su otto ore al giorno perciò otto per quattro trentadue ah sì ho visto anche il conteggio degli orari e delle ore cioè se vogliamo fare appunto un discorso puramente quantistico manco questo assolutamente calza con il ragionamento che fa Asugi perché oggi appunto dovrebbero rimanere due strutture che io onestamente non mi sento di definire consultorio due strutture piene di cose con dieci ore al giorno perciò complessive per la cittadinanza venti ore al giorno contro le trentadue e non solo con un sovraffollamento di utenza perché? perché da risposte a cinquantamila o centomila persone cioè tutto sommato diciamo la differenza è una differenza enorme scusa e non si sa neanche queste ore come vengono distribuite quante ore il ginecologo quanto è non so l'assistenza sociale di seguito quali sono le funzioni quali metodi di lavoro e la certezza la gestione sociale non è neanche più prevista e lo dice la legge capisci che gli interrogativi sono tanti e quindi siamo preoccupate e la certezza di un'equip che ti seguiva e che tu conoscevi e che perciò conosceva la tua storia che questa è la parte fondamentale del consultorio perché io non sono per difendere per tornare ai quattro io sono per avere un consultorio ogni 20.000 abitanti che vuol dire in provincia di Trieste che siamo 200.000 10 consultori compresi comuni minori cosiddetti perché è un servizio che deve essere radicato nel territorio no scusa no io credo che in queste fasi di cambiamento sia legittimo e normale che ci siano tante domande poi bisogna capire effettivamente nella concretezza quante di queste domande potranno trasformarsi effettivamente in una ricaduta in un servizio diverso però ecco volevo portare il ritorno delle persone che lavorano nel servizio sociale che in questo momento dicono vediamo effettivamente se questo si tradurrà perché in realtà sebbene abbiamo compreso tra le quattro strutture di prima e le due di adesso noi le abbiamo semplificate in termini di riduzione in realtà parlare di riduzione implica un qualcosa in meno in realtà saranno due strutture con caratteristiche molto diverse rispetto alle quelle di prima bisogna capire effettivamente come questo si tradurrà concretamente in servizi anche perché io mi pongo questa domanda poi finisco interrompo abbiamo ancora tempo la domanda è questa perché vedo tantissimi spunti via sms quindi bisogna anche seguirli il direttore Poggiana non ha raccontato qual è l'utenza adesso il numero dei casi che tipologia di servizio si chiede eccetera forse bisogna raddrizzare quello che era nel passato ci sono delle miglioramenti da fare rispetto a un'utenza che è comunque diversa perché nei costrui vanno ragazzi ragazzi giovani non gli anziani ovviamente quindi in questo senso magari ragionare sulla tipologia di costruzione come lo modifichiamo perché la legge è datata sono tanti anni potrebbe essere interessante però non ha previsto neanche una specie di conferenza un'assemblea un'audizione un confronto dice perché non vengono interpellati i cittadini prima di fare dei cambiamenti drastici nella sanità già tanto penalizzati i vari tagli fatti negli anni perché? Democrazia è questa no certo ok dopo di che allora in ogni cosa giustamente dovrebbe essere più opinione dei cittadini sono cittadini anche dirigenti allora uno dice no la specialità del consultorio è che è una legge che prevede la gestione sociale che vuol dire che un pari numero di utenti e di operatori eletti in un'assemblea di utenti e di operatori decidono chi li rappresenta in questo modo noi abbiamo lavorato tre anni poi si è cambiato dall'unità sanitaria locale si è passata all'azienda sanitaria e i comitati di gestione sono andati a finire nel nulla c'era già stata una spaccatura di partecipazione nel passato lontano parlavo degli anni 80-90 quindi sono passati tanti anni e poi sembrava che tutto funzionasse tranne qualche piccolo lamento che sentivo in giro rispetto ai servizi però in realtà le cose erano positive camminavano anche gli operatori non davano segni di malessere così generale tra virgolette insomma e poi improvvisamente viene fuori questa caduta chiamiamola così precipitata non messa in bocca all'assessore regionale né tantomeno a Fedriga che è presidente ma ad un funzionario dell'ente e ora questa cosa preoccupa ancora di più sembra una cosa decisionista si diceva una volta sì in qualche maniera sì e nel pezzo che prima abbiamo sentito adesso vi farò sentire un'altra cosa del passaggio del dottor Paggiana parla appunto che per la prima volta si parlerà di presa in carico sì ma questo è quello che stava facendo il consultorio una vera presa in carico di tutti i problemi ogni 20.000 abitanti i consultori infatti quello che dicevamo prima che ricordavo prima ma perché appunto ci deve essere la possibilità di seguire le persone che frequentano il consultorio cioè cosa intende dire che essendo riducendoli a due pur ampliando l'orario aumenti a dismisura la base potenziale di fruizione di quel servizio che pertanto diventa un servizio che non è più un servizio consultoriale ma un servizio dove eroghi delle prestazioni senza trascurando completamente quello che può essere la storia guardi qui c'è un dibattito pazzesco da San Giovanni a Roiano ci si arriva con la 6 da San Gioca Giacomo a Valmaura con la 10 Trieste non è una metropoli ma non è questione di autobus se poi c'è lo sciopero non è una metropoli se poi c'è lo sciopero degli autobus non si riesce a fare il controllo del parto lo so scherzo lo so però diciamo la frase finale il ragionamento finale Trieste non è una metropoli sì ma questi sono servizi di prossimità prima nell'intervista quella giovanissima madre descriveva cosa significa avere un servizio di prossimità un servizio di prossimità significa anche conoscere altre madri ad esempio nei percorsi nascita del tuo quartiere con le quali puoi solidarizzare e darti una mano fare insieme i corsi mi fai allora Guido vi faccio dire un altro passaggio così poi lo commentate servizio la posizione Asugi sui consultori prima abbiamo sentito diciamo l'ultima di questa sera dopo la chiusura del proprio test questa era la posizione già in replica alle manifestazioni sollevate posizione Asugi sui consultori vediamo sentiamo più personale per ogni sede e quindi più elasticità organizzativa questi punti di forza della riorganizzazione dei consultori familiari secondo l'azienda sanitaria Giuliano Isontina che in queste giornate di protesta da parte dei comitati cittadini non ha ancora diffuso la sua replica se non con il comunicato di annuncio del nuovo corso a partire da mercoledì 24 gennaio rimane quindi la bozza di progetto di ristrutturazione aziendale disegnata a suo tempo in cui veniva appunto ipotizzata l'esistenza di due sedi cittadine hub una a Valmaura e l'altra a Roiano mantenendo e rinforzando le esistenti sedi periferiche sull'altipiano e a San Giovanni anche questa però come sede secondaria in assenza di tagli di personale spiegava ancora Asugi la maggiore elasticità organizzativa dovrebbe garantire un'apertura sulle 10 o 12 ore dei due consultori principali ampliando così l'offerta e rafforzando l'accessibilità nel rispetto delle norme regionali da mercoledì 24 gennaio dunque i cittadini anche quelli già in carico alle sedi in chiusura potranno fare riferimento alle sedi di via Stock 2 e via Valmaura 59 oltre che alle sedi periferiche di Aurisina Muggia e Sandorligo della Valle chi invece ha già un appuntamento verrà contattato dagli operatori Prieste non è una metropoli c'è Muggia Aurisina a quante ore ha Muggia Aurisina non l'hanno detto in che senso non l'hanno detto ah gli orari di uno dice ok se uno deve prenotare come si fa per una visita non so cioè come dire bisogna ampliare gli orari anche di quelle là lo sappiamo non ce l'ha detto ci sa qualcosa anche Muggia Dolina e Sandorligo sono un altro comune quindi non c'è Trattognolli però non so questo è anche un dato interessante cioè io ribadisco non è una questione di distanza perché nella prima riunione sempre Asugi ci ha rappresentato proprio tutto un ragionamento sulla mobilità con un ingegnere ha detto la mobilità non è una questione di distanza cioè si va a creare una scomodità inutile visto che i quattro servizi tuttora che erano aperti fino a pochi giorni fa erano in situazioni logistiche più favorevoli perché così appunto si scopre come si diceva prima tutto il centro città ma prossimità non significa distanza in base ai chilometri prossimità significa prossimità tra le persone un servizio di prossimità è quello che deve servire a creare solidarietà complicità tra le persone che lo frequentano e tutto ciò non si può creare in due sedi in meno questo adesso io banalizzo ma gli devo fare le domande su questo in due sedi in meno diventano due uniche sedi in tutta la città non si sa cioè se la prossimità non è la vicinanza come diceva lei ma è una vicinanza umana è una vicinanza umana sì è una vicinanza umana una vicinanza umana che significa che prima di andare al corso del percorso nascita mi trovo in giardinetto a San Giacomo con le altre mamme e scambio anche quelle che sono tutte le mie paure e tutte le mie angosce la vicinanza anche è fondamentale per tutti quei casi che chiaramente nessuno è esposto in piazza che sono tutti i casi che riguardano la violenza qui ancora mi scrivono un esperto della materia da San Giacomo a Valmaura con la 10 ci metti massimo 9 minuti va beh d'accordo dipende se c'è traffico sì ho capito se ne diventano 12 ma non è questo il problema ho capito infatti che non è quello non è solo la distanza però è stato anche quello non stavano in 4 e se lo staranno in 2 giusto? e la gente l'utenza sarà la stessa se non di più perché magari siccome abbiamo queste grandi politiche per la famiglia che non vedo ma fa niente le vedremo magari si faranno più figli insomma e quindi servirà ancora più consultorio più prevenzione di aborto chissà Dio quale sarà il nostro futuro quindi con queste robe ristrette non è come se andassi a levare un dente Federica l'ha detto la politica della regione l'aiuto per il mutuo il secondo figlio per le cose lì il finanziamento ho capito ma non i servizi non controllare se funziona l'utero scusa se ha questa bassezza cioè cioè la base base non in quel senso base base dopo di che l'allattamento ognuna si può arrangiare a casa perché guarda magari il filmetto su come si allatta cioè le cose sono molto strane molto tante l'ostetrica veniva a fare il primo bagnetto a casa del piccolo nato da una mamma che andava in consultorio perdeva tempo e con questo mi domando hai capito? però servizio a domicilio è certo che l'hai visto ma se arrivano è proprio per garantire se arrivano mille bimbi con una unica dipendente ostetica ma magari appunto perché ormai ultimamente mi sono perso questo sms Tognoli se vuole intervenire altrimenti andiamo già in velocità torno all'inizio rispetto a questi casi che sono casi personali di singole persone credo che poi l'organizzazione di una struttura molto complessa debba tener conto di questo e non solo di questo qui scrivono la questione dei consultori l'accentramento a una sola struttura per i servizi a bambini e adolescenti con disabilità sono vergognosi illegali non c'è rispetto per i bisogni dei cittadini illegali è il tema dei 20.000 uno ogni 20.000 immagino certo esclusivamente contralegge e ridurre cioè mettere in una struttura servizi a bambini e adolescenti con disabilità cioè unire questi due temi sbagliato questi due mondi non so come dire perché l'un psicologo resiste in realtà l'unione di questi due mondi è alla base della nostra attività e si chiama inclusione quindi noi invece non vorrei intendiamo a includere sempre e a mettere assieme questi due mondi quindi sì cioè non è argomento di questa sera ma sembra no però fa parte diciamo ma fa parte delle problematiche che esistono nella società che si capisce che anche si riforma tutto il servizio sulla disabilità era anche sul giornale si è letto l'altro giorno in maniera divisiva perciò andando sempre contro il concetto di presa in carico ma prestazioni una prestazione la faccio da una parte una prestazione la faccio dall'altra questa sembra sarà il futuro senza continuità di servizi mi auguro che a questo punto lei come assessore ai servizi sociali che la disabilità è una fetta importante diciamo del suo assessorato direte qualcosa prima che accada questo definitivamente e non lasciate anche in questo caso le famiglie da sole perché famiglie che consultori ce l'avranno cioè avranno questi servizi prestazionali in due zone della città se in più la famiglia ha anche un portatore di handicap penso che la situazione diventerà veramente un salto ad ostacoli e raggiungere i servizi ma guardi in qualità di assessore in me non mi è concesso occuparmi dei sembra perché poi il tema della disabilità anch'esso merita un rispetto assoluto per cui non posso neanche prefigurarmi come dire un futuro che vedo dipinto veramente a tinte molto molto fosche posso dire questo però sulla disabilità anzitutto che è un tema centrale quest'anno perché legge regionale la legge 16 del 2022 partita decorre dal primo gennaio 2024 attribuisce la competenza della disabilità dai comuni ad assugi e qui come dire la sintetizzo è un mondo di una complessità assoluta tant'è che poi in realtà questo passaggio concretamente non c'è stato la conferenza di sindaci della quale faccio parte per delega del sindaco ha firmato un atto di intesa con assugi perché perché il 2024 sarà un anno di transizione perché dire passiamo la disabilità da A come dire è una dichiarazione di intendi è molto complicato mi ha colpito la semplice perché è la cosa che pensavo anche io chi scrive dei minutaggi non ha mai tenuto conto di cosa vuol dire prendersi un autobus con una carrozzina con un bambino non c'è alcun dubbio diciamo poi una volta che sei su è chiaro che quello è il tempo della distanza ma anche doversi attrezzare per prendere l'autobus con un bambino con la carrozzina è una roba che povere mamme sei padre anche tu e non so chi c'è il perché appunto fermi pochi stati di pubblicità tra poco bisogna avere anche il coraggio di dire devo cambiare per migliorare non penso possa essere possibile un miglioramento se non c'è un cambiamento anzi senza cambiare con la sanità che corre si rimane indietro e si accumula ritardo la razio è quella di dare è quella della presa in carico è quella di superare il modello prestazionale e della presa in carico dell'utente presa in carico vuol dire non limitarsi a una risposta singola o magari costringendo l'utente a tornare più volte ad accedere al servizio ma nel momento in cui accede al servizio dare una risposta complessiva e quindi la grossa forza di questo cambiamento è il potenziamento la composizione di equip multiprofessionali multidisciplinari come si dice ci consente questa operazione anche di allungare allargare ampliare la fascia oraria di accesso quindi dalle 8 alle 18 e non dalle 8 alle 16 che poi possono diventare le 15 15 e 30 ci permette di aumentare l'attività domiciliare che è la massima espressione di prossimità perché ci consente di aumentare perché la presenza di un gruppo composito all'interno dei consultori consente operatori di recarsi al domicilio senza avere il timore di lasciare sguarnito il consultorio stesso quando ci sono pochi operatori esce l'ostetica e magari non c'è più l'ostetica nel consultorio arriva o la giovane o la signora o la donna e cerca l'ostetica e non c'è non può essere così aumentiamo gli spazi confermiamo e rafforziamo il principio fondamentale della scelta autonoma e della libertà d'accesso dell'accesso libero allora vi ho fatto risiedere questo passaggio ma intanto perché abbiamo preparato un altro paio di servizi ancora con la protesta Guido dammi tu l'ok quando sono pronti in scaletta perché era appunto un paio di cose che ci eravamo persi tra cui un'altra protesta che è questa e che voglio farvi vedere appunto unito a quello che avete appena sentito e poi sentiamo gli ospiti vediamo più di cento persone la quarta e ultima tappa del corteo itinerante per chiedere ad Asugi di fare dietro fronte e lasciare attivi i quattro consultori voci da tutta Trieste mamme e papà nonne e nonni ma anche bambini e futuri genitori in tanti hanno fatto sentire la loro voce striscioni appesi ovunque l'appuntamento più nutrito quello alla sede di via San Marco nel popoloso rione di San Giacomo la carreggiata è stata bloccata dai manifestanti e la polizia ha dovuto chiudere la strada e ne viene il traffico no allo smantellamento che viene passata per una ristrutturazione e riorganizzazione che comunque colpisce ovviamente il territorio e con l'obiettivo di una sanità che sia privata e non pubblica perché non si fanno queste schifezze punto la sbaglierata politica della famiglia chiude i consultori familiari mi verrebbe da dire politiche familiari uguale nepotismo Flavino Riccardi assessori non ci chiudono i consultori critiche all'azienda sanitaria nulla di risparmiato nemmeno alla politica i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni sì siamo molto arrabbiate la sede di San Marco è già chiusa Assugia aveva programmato la chiusura per domani è una efficienza incredibile complimenti il dottor Poggiana non c'è neanche un atto che è scritto e argomentato di questa riorganizzazione c'è solo una lista di traslochi da fare abbiamo cominciato un anno fa e non mogliamo io lo dicevo negli anni 70 si occupava il burlo e io ero minorenne per avere i consultori e adesso sono vecchia e continuo a occupare i consultori questo è il sentimento all'ultimo presidio di San Giacomo prima ancora i manifestanti si sono trovati alle sedi di Valmaura San Giovanni e Roiano dove peraltro era in corso il trasloco divani poltrone sedie e altri arredi portati dai consultori chiusi a quelli che rimarranno che non c'è in questo momento un piano concreto di riorganizzazione con i contenuti dell'offerta assistenziale è importante soprattutto che i sindacati e gli operatori dicano la loro e facciano valere anche i loro diritti che sono tra i primi interessati per me è essenzialissimo perché io sono una di quelle che dall'84 io sono straniera sono greca e dunque dall'84 ho avuto riferimento con questa unità cioè venivo alla ginecologa comunque di questo consultorio non bisogna chiuderli io sono qua perché ho la mia età e negli anni 70 ho lottato per averli questi servizi allora così avete visto ancora una volta le due facce diciamo di questa vi siete riviste voi eravate comunque la signora Adriana l'ho vista sì possiamo dire anche perché abbiamo fatto quella giornata particolare con questi flash mob scusate abbiamo una marea di servizi in questi mesi no? sì diciamo anche sintomo del fatto che cosa si sapesse e beh sì non volevo farti arrabbiare ma è una cosa perché mi guardi no non volevo dire però che si sapeva e quindi è un dibattito che va avanti da mesi e abbiamo anche dall'estate l'abbiamo detto prima c'è anche una volta in cui si è occupato il consultorio per tenerlo aperto come presidio abbiamo preparato anche quello di qualche mese fa scusi Adriana prego sì sì quello che volevo dire è che quella giornata è stata una giornata particolare in quanto noi nei quattro consultori nelle quattro sedi abbiamo rimesso il cartello che indica il consultorio perché cioè il consultorio era nascosto no no era stato tolto cioè da circa un mese che Asuge aveva coperto i vecchi cartelloni dove era esplicitato che quella era una sede di un consultorio familiare con questo termine complicatissimo di struttura complessa materno-infantile eccetera eccetera cioè ecco diciamo che proprio le parole sono importanti come diceva qualcuno le parole sono importanti cioè come dire negli ultimi mesi proprio il consultorio sta sparendo e noi ribadiamo che l'apertura di queste due macro strutture e svilisce proprio quella che è stata in tutti questi anni la presa in carico all'interno dei consultori con un numero ragionevole di utenza e trasforma in una situazione prestazionale adesso diventerà una situazione prestazionale in risposta a quella che è stata l'osservazione di Poggiana e pertanto in questa città non ci saranno più consultori sembra di capire che su questo difficilmente si tornerà indietro almeno quello che abbiamo inteso è chiaro che come tutte le fasi di cambiamento ci possono essere presumo degli aggiustamenti per insomma fare in modo che poi le cose possano funzionare però ripeto cerchiamo di porci verso il cambiamento per quanto immagino sia davvero difficile con una con una prospettiva e con una con una disposizione che sia come dire più favorevole possibile al cambiamento bisogna modificare le cose bisogna cambiarle ripeto bisogna provare a cambiarle in meglio ma non ridurle però ridurre è un termine che in questo caso è da vedere da verificare è una riduzione numerica è una riduzione numerica capisco che da 4 si passa a 2 ma ripeto tra realtà che sono eterogenee tra di loro quindi oggi non è possibile esprimere un giudizio e paragonare strutture che sono diverse tra di loro e due di queste queste due macro strutture non hanno cominciato ad operare in questo senso dico attendiamo ad esprimere dei giudizi così severi auspicando tutti chiaramente che poi questi servizi possano funzionare parliamo di sanità ma tendiamo lei lo dice alle donne che magari non avranno più servizio per fare un corso per il preparto visto che adesso sono ancora chiusi perché devono ristrutturarli non sappiamo neanche cosa metteranno dentro se ci saranno le stanze sufficienti per gli operatori all'interno se manca il corso per parto però è una roba talmente clatante come fa a mancare poi il corso per parto sarebbe esplosiva se già la protesta è stata questa figuriamoci se manca il corso per parto allora in un servizio pubblico sia esso sanitario sociale indifferente che avrai una programmazione dovrai dire dovrai dire al mondo che da qua in avanti sarà così gli operatori in funzione saranno questi nome e cognome orario diciamo che rimangono Valmaura Roiano non c'è il corso per parto nessuno ha grazia di sapere cosa ci sarà cosa succederà in primis gli operatori non per niente gli operatori sono stati in agitazione anche loro perché alcuni operatori soprattutto quelli di San Marco martedì mattina sono stati trattati come quei divani che avete fatto vedere prima cioè li hanno presi e li hanno mandati all'una e mezza senza nessun preavviso a Valmaura peccato che un consultorio che funziona l'equip lavora in rete cioè l'equip deve programmare il servizio ma l'equip non è stata proprio avvisata l'unica comunicazione che è arrivato al personale è arrivata alle organizzazioni sindacali e non direttamente alle persone che lavorano pertanto se queste sono le premesse per costruire un servizio efficiente ed efficace per la popolazione cioè questo ci sembra veramente una cosa che non avverrà almeno non può avvenire in tempi brevi vedete le complessità perché poi l'assessore del comune che deve anche ragionare sulla sanità pubblica risposte che si danno perché il sindaco ha queste competenze potrebbe fare una letterina all'assessore regionale ai direttori dei servizi ma anche i servizi comunali che possono rappresentare quello che pensano rispetto ad un servizio che era utile anche per una serie di integrazioni di altre attività comunali penso ai assistenti sociali e a tutte le figure che lavorano in comune che devono lavorare intrecciate con il resto del personale del territorio se si riduce l'attività vuol dire che avremo meno risposte meno risposte ai servizi alle domande ai bisogni proprio per questa ragione vi dicevo prima che il giudizio che parlando tra i componenti dell'impartimento viene espresso non è non è come il vostro non è questo quindi voi esprimete un giudizio sulla base della vostra dopodiché noi sentiamo Poggiana dire qualcosa di diverso quindi bisogna come dire non so se avete visto l'intervista ma Poggiana non ha scritto niente cioè noi non abbiamo la città scusi assessore non volevo interrompere la città non ha carte in mano non abbiamo documenti scritti e sulle parole non si ragionano cioè la decisione o di queste manifestazioni non bastano le parole abbiamo bisogno che Poggiana scriva Poggiana la storia regionale quindi la storia regionale e Fedriga scrivano esattamente cosa vogliono fare a Trieste e altrove dall'intervista letta questa mattina se non sbaglio di Poggiana a me pare che ci fosse una certa chiarezza su quello che si vuole fare ma lei assessore ha visto le carte il limite ovviamente della divisione dell'articolo non consentiva di approfondire tanto il tema a me pare a me pare che le linee guida fossero molto chiare un dirigente di un ente pubblico che parla i giornali prima di parlare con gli enti mi pare complicato io devo leggere sul piccolo e sul modo come è stato tradotto magari su dire l'assemblea dell'altro giorno l'incontro che avete avuto con l'altro giorno non ha parlato non ha parlato è scappato via direttore Poggiana Poggiana non ha parlato allora noi come comitato siamo state invitate a questo incontro dove ci è stato comunicato la chiusura per mercoledì 24 stop ecco la chiusura per mercoledì 24 dicendo sempre la solita storia che è un potenziamento di servizio perché dieci sono più di insomma ci saranno dieci ore al giorno e i due servizi verranno chiusi senza motivare appunto perché che ne so poco frequentati per assenza di personale non sostituito no perché questa è la loro decisione che in questo momento bisognava cambiare cambiare dei servizi che sono uno dei pochi servizi della sanità che raccolgono il gradimento della delle persone che li hanno frequentati e che continuano a frequentarli pertanto diventa sempre più ingiustificato questo atto allora non so se ha oltre alla disponibilità di questa sera piacere di incontrarli ha senso incontrare queste persone oggi farsi portavoce che cosa vuole dire sono assessore noi in termini di ascolto ascoltiamo davvero i cittadini e le associazioni quotidianamente quindi questo fa parte della nostra della nostra vita quotidiana ascoltare davvero le persone su tutti i temi ovviamente anche anche su questi poi con una distinzione di ruoli perché ripeto è come dire la regia di questo ma certo non è però ascoltare anche perché poi il tema della sanità non è sovrapponibile al tema del sociale però è adiacente possiamo dirlo è molto vicino quindi sono temi davvero dove non ci possono non si può lavorare con compartimenti stanni con muri quindi è interesse il sociale si occupa delle persone che presentano delle fragilità o che comunque esprimono una qualche forma di disagio il malato rientra ovviamente in questa categoria quindi possiamo dire che sicuramente sono temi che interessano anche singolarmente come persone al di là del ruolo che noi andiamo a ricoprire prima facevamo accenno al tema della disabilità facevamo accenno al tema della legge 16 è un tema importante sul quale siamo assolutamente concentrati durante tutti questi 12 mesi che come dicevo prima sono 12 mesi di transizione perché al di là dei modelli che vengono applicati l'importante l'obiettivo da raggiungere è che alcuna modifica di modello vada a ricadere sulla singola persona portatrice di disabilità per la quale ci sia garantita quindi una sorta di assoluta continuità quindi ascoltiamo davvero tutti ascoltiamo anche tutte le persone che scrivono per presenza vi faccio vedere aspetti Paco dopo vi faccio vedere torniamo a passaggio di questa protesta di questi mesi anche un momento dell'occupazione che ci dava poco fa che porta la memoria al 24 novembre o al 68 vediamo vediamo questo è momentanea teniamo aperto il consultorio perché l'azienda sanitaria vuole chiudere questa struttura di San Giacomo in via San Marco insieme alla struttura di San Giovanni l'azienda sanitaria continua con il suo progetto di dimezzare i consultori familiari l'abbiamo provate veramente tutte e questo è il nostro atto dimostrativo per ribadire ancora una volta che noi vogliamo consultori aperti diffusi e numerosi sul territorio per noi è tanto più inaccettabile la chiusura dei consultori familiari perché non una di meno nella lotta alla violenza di genere nel contrasto alla violenza di genere individua tra i consultori uno dei presidi territoriali fondamentali per la prevenzione quindi da un lato assistiamo a misure sicuritarie e militariste per il contrasto alla violenza di genere che non sortiscono effetto e mentre ci sono grandi proclami per difendere le donne apparentemente vengono chiusi i servizi territoriali pubblici per noi questo è inaccettabile per cui rimaniamo in consultorio questa sera e domani scenderemo in piazza Ortis a ristabilire il presidio permanente contro i femminicidi va bene allora così appunto tornando dietro novembre Pacoro l'avevo interrotto se vuole aggiungere qualcosa intanto Guido prepara al computer un altro passaggio il consultorio non è come il servizio di ginecologia che cura la malattia per dire o indifferente l'ostetrica o anche il dentista che ti ripara il dente è un discorso di prevenzione quindi prevenzione dell'attività nella scuola l'attività con i bimbi già dalla scuola materna nella costruzione di un pensiero diverso nell'atteggiamento tra uomini e donne per esempio di modo di comportarsi via di seguito poi c'è l'attività di prevenzione dei tumori della sfera femminile che comincia da presto le visite ginecologiche oncologiche eccetera per chi ha bisogno quindi è praticamente un campanello d'allarme che si raccoglie cioè sono campanelli d'allarme che si raccoglie in una struttura dove si va da sani e che magari ci si ritrova con qualche difficoltà e la si previene subito non si lascia andare queste cose se poi guardiamo alle famiglie anche in arrivo che sono tante di nuovi arrivati nella nostra città indipendentemente dal loro colore di pelle o della forma di cultura e anche con questi abbiamo da ragionare ma non perché hanno comunque una cultura diversa rispetto alla salute è l'itinerario che noi abbiamo e che abbiamo costruito in questo modo e quindi bisogna integrare ma anche tra l'altro rispettarli e rappresentare in qualche modo il loro vissuto si deve esserci un consultorio se deve esserci un consultorio ogni 20.000 abitanti chiudere due consultori non ci rende fuori norma non siamo nella norma sì certamente non siamo nella norma siamo fuori legge non eravamo anche prima allora facendo i conti non eravamo nella norma neanche prima da mai? sì da mai dal 78 c'è della legge però chiaramente quando tiri la corda la situazione esplode e ti rendi conto che questi servizi sono fondamentali per tante cose in questo momento in cui la società chiede anche tante cose perché proprio la difesa alla violenza contro le donne è uno dei ruoli fondamentali del consultorio se il consultorio rispetta la sua caratteristica di avere un'equip ben precisa che tu ritrovi ad ogni visita al consultorio che fai e perciò io non devo trovare un'equip indistinta io devo trovare quell'equip con la quale mi diventa più semplice aprirmi in caso di violenza da raccontare purtroppo come ben sappiamo sono tante le donne che hanno da raccontare i consultori soprattutto nei regioni popolari come San Giacomo servono anche per l'educazione sanitaria aiuto alle genitorialità immagino va bene Esther vuole aggiungere qualcosa assessore devo chiudere assessore direi che ho ascoltato davvero voi con grande piacere ho ascoltato anche le testimonianze che sono state portate quindi mi porto davvero a casa qualcosa con grande rispetto come dicevo all'inizio va bene grazie appunto anche di aver accettato in questo clima comunque teso di essere teso ci incontreremo è una protesta bella forte la dialettica la dialettica però ecco l'impressione è che sia difficile tornare dietro a questa decisione quello che io ho percepito è da scambiarsi notizie cioè le devo dire quando scopro qualcosa io lo dico è certo scambiarci notizie allora le dico che il sindaco stasera ha detto che condivide guarda l'occhio di Massimiliano che è un grande dolcezza adesso condivide l'operato della suge sì sì ma questo lo sta dicendo già da tanto scherzo non è che sia una novità comunque la prossima settimana in consiglio comunale ci saranno delle emozioni in lunedì lunedì 29 abbiamo consiglio comunale no il consiglio regionale ah il consiglio regionale il consiglio regionale anche perché là l'interdeputato no perché se no temevo il 29 il consiglio comunale ha già detto che le borciano tutte quelle dell'opposizione ha detto il sindaco stasera perché quindi il consiglio regionale qualcosa in più potrà esserci va bene grazie davvero a Esther Pancor Adriana grazie signora Adriana per essere stata con noi ferma lì ferma lì grazie grazie Assessore Tognoli grazie a voi a voi per averci seguito ci vediamo domani sera con Ringa alle 21.10 grazie buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.